L'assessorato alle politiche sociali del Comune dell'Aquila con l'assessore Emanuela Tursini ha presentato oggi gli attesi bandi per l'assegnazione di alloggi del progetto case alle categorie fragili ma non solo, anche a genitori separati. In giunta sono stati approvati i requisiti per poter far domanda. L'esigenza abitativa era emersa anche durante la stesura del piano sociale che ha aiutato il Comune a capire come agire. È stata aumentata innanzitutto la soglia ESEE rispetto al vecchio bando che arriva a 10.000 euro per nuclei già esistenti. Ci si è resi conto di tante problematiche che hanno portato nel tempo ad un impoverimento delle famiglie. I bandi erano pronti già prima di Natale ma poi si è pensato di aspettare le scadenze fiscali per favorire l'accesso ai nuovi bandi con nuovo ESEE 2023. Anche il settore patrimonio ha collaborato per la messa a disposizione degli alloggi. Il bando per i separati prevede l'accesso non vincolato all'ESEE ma si è preferito far riferimento al reddito lordo da 12.000 euro a 35.000. Non si è inserito ESEE perché poteva essere più vincolante. Entro una settimana si uscirà con i bandi. Nel primo bando sono previsti 40 alloggi e saranno dati mappa per i separati 10 alloggi a disposizione del progetto case, 50 dunque in tutto. A giunta ieri sono stati approvati i presupposti e criteri per accedere a questi bandi che verranno pubblicati a breve. Quindi è stato un momento importante con la deliberata giunta. I criteri che sono stati fissati tengono conto anche del nuovo spaccato sociale economico della comunità che parte comunque dal piano sociale. Questa è un'azione diretta del piano sociale che è già comunque prevista che prevede quindi l'assegnazione di moduli provvisori abitativi di 40 unità per le persone per le fragilità sociali e 10 invece per i genitori, diciamo i soggetti quindi separati e che sempre comunque con un i6 che va praticamente da 0 a 10 mila euro.